Se hai un nemico devi costruire un esercito, se hai un nemico sociale ci vuole un esercito sociale, però non si costruisce un esercito per l'educazione, l'esercito si costruisce se hai un nemico, se scopre un nemico dichiara di fargli la guerra e impara a fare la guerra giorno per giorno